ciao a tutti sono francesco di outech is made siamo qui con un altro accessorio tecnologico che veramente farà contenti in molti mi si è rotta la mia tastiera bluetooth per iphone ed ipad che usavo da un po di tempo era la logitech k 480 ho deciso di cercare qualcosa che fosse sempre marcato logitech perché un brand che apprezzo tantissimo soprattutto per le soluzioni innovative che utilizza la scelta ricaduta su questa tastiera dal sempre logitech la kiss to go che è una tastiera che andremo a vedere adesso qui nello scatolo veramente veramente ben studiata come vedete già lo scatolo è semplice e minimale ed è facilissimo da aprire qui al suo interno troviamo ovviamente la tastiera che andremo a scoprire tra poco e inoltre nella parte inferiore trova spazio se riusciamo a toglie perché sempre si è tutto incastrato al millimetro un piccolo manualetto il cavetto micro sb usb per andare a ricaricarla lateralmente la tastiera è un una base una comoda base questo perché la tastiera è veramente stra bella sottilissima e vedete lo spessore è veramente ridicolo giusto per farvi un esempio qui c'è la tastiera originale di di apple ed è da quasi lo stesso spessore sono identiche in pratica e forse leggermente più spessa questa ma vi assicuro che veramente è fatta benissimo la tastiera è un design veramente è pulito qui dietro che c'è spalmata una grande batteria il la porta micro sb per caricarla e il tasto di accensione per andare ad accendere è molto pulita i tasti sono ben organizzati qui c'è semplicemente un led che vi permetterà di andare a a vedere lo stato di carica della batteria e di connessione come vediamo per collegarlo semplicemente sarà semplice andare nella nelle impostazioni del vostro ipad o iphone perché vi questa tastiera è disponibile solo è compatibile solamente con iphone ipod ipad ed apple tv quindi non altri dispositivi android windows sebbene sia sia sempre bluetooth una scelta discutibile forse per una questione di contenere costi ottenere sconti sulle licenze non è ben chiaro se non ci sia c'è una stessa versione il compatibile solo con android vabbè scelte qui che non stiamo a discutere come vedete una volta collegata al bluetooth questo in automatico si connetterà e dolore in avanti come vedete ciò una bella mi facevo vedere che è incluso nella confezione vendita anche questa bellissima base che è possibile utilizzare sul nostro ipad però per andare a scrivere in tutta comodità adesso devo andare a rimuovere la cover ovviamente la cosa forse un po più scomoda che bisogna andare a togliere la cover dall'ipad però a meno che non vi accontentate di tenerla un pochettino più sollevata questa è la postazione come vedete ho già cliccato un pochettino e si vede la mia postazione di lavoro come vedete la larghezza è in pratica uguale all'ipad questo è un ipad air 2 quindi come vedete la larghezza è veramente identica andiamo ad aprire google chrome per su una nuova una nuova scheda per far vedere la digitazione come su questa tastiera come vedete un attimo che vado a scrivere e la tastiera è veramente molto molto reattiva il design è veramente unico e funzionano tutti quanti i tasti classici per comandare come le frecce andare a cercare aprire il browser internet o modificare la tastiera scattare una foto il tasto esco mandare in avanti aumentare il volume stoppare i video insomma attivare disattivare il bluetooth vedere lo stato di carica la classica tastiera completissima con il taglia copia incolla i classici tasti comandi e dimensioni sono veramente compatte adesso la vado a smontare giusto per far vedere quant'è la grandezza con con l'ipad che va a coprire quasi tutta la parte inferiore come vedete il la tastiera è veramente sottile mi piace veramente per quello perché è fatta veramente bene portabilissima oltre che avere delle caratteristiche veramente uniche perché è impermeabile è resistentissima la sto usando da un paio di mesi come vedete non si è rigata per niente perché è una un materiale molto resistente oltre che essere leggermente gommoso quindi ha un buon grip unica cosa non mi piace questa base che non è proprio di qualità e non regge bene l'ipad tende un pochettino a piegarsi però va bene è gratuito insomma se utilizzate una stand cover che mantiene l'ipad così potete anche tenerla lontano dal dispositivo alcune versioni sono compatibili anche con android però costano leggermente di più questo il prezzo di destino è sui 70 euro ma spessissimo si trova intorno ai 35 euro in promozione un acquisto sicuramente da fare perché è un gadget tecnologico che dovete avere perché è portabilissima resistentissima la batteria dura oltre tre mesi la sto utilizzando da io da un paio di mesi non l'ho mai ricaricata quindi non so veramente se è la durata quella che è dichiarata dal produttore di tre mesi probabilmente sarà rispettata sì perché veramente è una tastiera super in tutto dalla batteria alla digitazione se fosse stata leggermente più grande con i tasti di numerico sarebbe stata la tastiera bluetooth perfetta non solo per ipad come vedete il tasti sono tutti a filo e la digitazione è veramente fluida posso inserire tutti quanti i numeri velocemente c'è anche un buon un buon feedback del della digitazione con il passo corto però comunque è ben è ben calibrato quindi si digita anche molto comodamente per chi lo utilizza soprattutto in ufficio una tastiera che per chi ha l'ipad sicuramente è la tastiera perfetta compratela se la trovate in promozione soprattutto con offerte particolari sicuramente è un accessore che deve far compagnia nel vostro ufficio se avete un ipad o quando siete in giro un saluto a tutti da francesco di howtech is made